La storia degli ultimi secoli Il multiculturalismo non è semplicemente un insieme di culture che coesistono all'interno dello stesso territorio, locale o globale che sia. Una società multiculturale può essere anche, purtroppo, una società multighetto, con molte divisioni e minoranze compresenti che lottano per il proprio riconoscimento culturale, giuridico, economico e politico. Una società multiculturale è, nei suoi principi, quella che pretende riconoscere e formalizzare l'esistenza delle molte pratiche interculturali che pervadono la vita quotidiana di tutti i paesi e continenti del globo. Possiamo dire che il multiculturalismo rimanda a un discorso politico che vorrebbe legittimare la transcultura esistente dentro di ogni nazione, promuovendo il riconoscimento e il rispetto delle minoranze interne. Anche in questo caso, tali questioni sono affrontate e gestite con intensità variabili. Per esempio, le informazioni provenienti dal mondo intero, i ristoranti e i negozi esotici presenti nelle strade delle metropoli globali, le musiche di provenienze diverse trasmesse nella stessa piattaforma digitale, i viaggi, le letterature, le discipline sportive, le religioni, i riti, sono tutti aspetti sintomatici di una cultura globalizzata che incrocia le diverse conoscenze sulle diverse culture. Questa consapevolezza è un primo passo verso il riconoscimento istituzionale di una società multiculturale, intesa come rispettosa della multidiversità. Tale multidiversità è resa sempre più evidente attraverso i processi di globalizzazione. Le migrazioni, la promozione delle merci, la circolazione del denaro, la propagazione di immaginari mediali e di innovazioni tecnologiche rappresentano i flussi che in maniera irregolare costituiscono la cosiddetta globalizzazione. Ad ogni modo bisogna intendere che la globalizzazione non è sinonimo ed espressione di una cultura universalista. Per esempio, secondo gli ultimi rapporti di vari ONG e di organismi economici internazionali come l'Ocse o il Banco Mondiale, si stima una concentrazione di ricchezza e benessere sociale in una minoranza di esseri umani, all'interno di ogni nazione e poi, in modo esponenziale, all'interno del mondo stesso. Come dire, la giustizia sociale, quella economica e quella culturale, per non essere artifici retorici, devono essere promossi sempre insieme. Non esiste dunque una politica e un'etica globale condivisa nel vivere la terra come una terra patria cui tutti apparteniamo. Esiste invece un multiculturalismo che corrisponde ai diritti dei cittadini agiati e cosmopoliti. E un altro meno rosio fatto da emigranti in cerca di pace, lavoro e libertà. Si abita la stessa terra globalizzata e interconnessa, ma da punti di partenza e arrivo diversi. Dentro il contesto della globalizzazione tecnologica e economica, tante minoranze culturali del sud e del nord e del mondo sono prive di accesso a diritti politici, sociali e giuridici, determinandone una condizione di subalternità. Questo scenario crea le condizioni per creare ulteriori effetti di discriminazione, di modo che gli svantaggi economici e politici diventano strumenti di pretestuose discriminazioni culturali. Eppure esistono delle risposte politiche e giuridiche avanzate da una gran parte, non tutti, dei paesi del mondo. In tal senso, già nel 1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale, insieme alla Costituzione dell'ONU, è stata redatta la Dichiarazione dei diritti umani. Lo scopo era proprio quello di enfatizzare nel mondo intero il concetto di dignità umana come qualcosa di intrinseco, inalienabile ed universale. La Dichiarazione riconosce, tra le altre cose, il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, al riconoscimento come persona e all'uguaglianza di fronte alla legge. A garanzie specifiche nel processo penale, alla libertà di movimento e di immigrazione, all'asilo, alla nazionalità, alla proprietà, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà di associazione, di opinione e di espressione, alla sicurezza sociale, a lavorare in condizioni giuste e favorevoli e alla libertà sindacale, a un livello adeguato di vita e di educazione. Ma anche gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno fatto un ulteriore passo avanti attraverso una Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre del 1950 ed entrata in vigore nel 1953. Tra le altre cose, la Convenzione stabilisce che il godimento dei diritti da essa garantiti non è soggetto ad alcuna discriminazione fondata su ragioni di razza, lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale o sociale. Questi provvedimenti sono strettamente correlati alla creazione di nuove istituzioni che devono, dovrebbero monitorare e promuovere l'applicazione di tali diritti. Tra queste, la Commissione per i diritti umani, ma rimane il fatto che gli stessi diritti umani soffrono di un certo disequilibrio politico nella maniera di essere applicati e far rispettare i suoi principi. Correggere questa parzialità e disparità politica e culturale nei modi di interessarsi all'umanità dei diritti umani deve essere una lotta universalmente condivisa.